Buongiorno appassionati rosso-blu, manca soltanto un giorno alla sfida contro l'Inter, in programma domani alle ore 18 e valevole per la dodicesima giornata della Serie A team. Una partita storica per il Crotone che per la prima volta affronterà i nerazzurri e lo farà nel Tempio del Calcio Italiano, il Meazza di San Siro a Milano. Gli squali sono ritrovati questa mattina per sostenere la rifinitura sul campo parchionio di Steccato di Cutro. Al termine della sessione il pranzo e successivamente i rosso-blu raggiungeranno l'aeroporto di Lamezia dove nel pomeriggio decolleranno alla volta di Milano. Ecco come i ragazzi di Nicola si avvicinano alla storica sfida. Grazie a tutti!